Ciao ragazzi e ragazze, oggi ci ritroviamo per un video di AP Daily Live per imparare insieme, insomma per imparare, per fare un po' di pratica con il saggio argomentativo. Sicuramente avrete già fatto tanta pratica in classe, però oggi vediamo un po' di aiutarci a ricordare tutto quello che va fatto per il saggio argomentativo. Prima di cominciare però voglio fare uno shout out agli studenti di tante scuole negli Stati Uniti che si stanno preparando per l'AP di italiano, quindi agli studenti della professoressa Lucia Sardi della Brunswick High School, agli studenti della professoressa Antonietta Gliubizzi della Hendrick Hudson High School, della professoressa Jacqueline Bevacqua della Parsipani Hills High School e infine agli studenti della professoressa Angela Minichiello Garcia della Parsipani High School. Quindi sono contenta che ci stiate seguendo, spero che i video siano utili e adesso cominciamo con la nostra lezione, quindi vediamo subito che cosa impareremo oggi. Allora intanto questo è proprio il formato che troverete prima di cominciare a fare il vostro saggio argomentativo. Avrete un minuto per leggere le istruzioni relative a questa attività, ok? Quindi un minuto. Vediamo bene cosa dicono. Scrivi un saggio argomentativo per un concorso di scrittura in italiano. La traccia si basa su tre fonti, materiale scritto e orale, che presentano diversi punti di vista sull'argomento. Per prima cosa hai sei minuti per leggere la traccia e il materiale scritto. Quindi vedrete che la traccia sarà il titolo, praticamente la domanda alla quale dovrete rispondere. Il materiale scritto saranno un articolo e anche una tabella, un grafico. Poi ascolterai la fonte orale due volte, ricordiamocelo, l'ascolto sarà per due volte. Scusatemi. Mentre ascolti puoi prendere appunti. Alla fine dell'ascolto hai 40 minuti per organizzare e scrivere il tuo saggio. Nel saggio argomentativo devi identificare i diversi punti di vista presentati dalle fonti. Sulla base di queste informazioni e delle tue conoscenze devi elaborare accuratamente il tuo punto di vista. Quindi è la vostra opinione che dovete esprimere nel saggio argomentativo utilizzando le fonti. Fai riferimento a tutte le fonti, tre fonti, indicandole in modo appropriato per giustificare la tua argomentazione. Quindi ogni fonte servirà come fondamento alla vostra opinione, alla vostra argomentazione. Organizza il tuo saggio in modo logico e chiaro. Quindi abbiamo visto che abbiamo più o meno, abbiamo 55 minuti in totale per il saggio argomentativo. Quindi ricordiamo, ce l'avremo tre fonti, quindi tre tipi di testi diversi. Il primo sarà un articolo, quindi chiaramente dovrete sviluppare per poterlo leggere bene la vostra comprensione dello scritto. Poi avrete un grafico, quindi l'analisi dei dati di una tabella è molto importante e un audio. E lì dobbiamo applicare le strategie che abbiamo applicato finora per cercare di capire un testo audio. Ma quali informazioni dovranno esserci nel saggio argomentativo, quindi nel testo che preparerete voi? Ci dovrà essere il punto di vista dell'articolo. Vi ricordate, abbiamo detto che dobbiamo citare tutte e tre le fonti, articolo, grafico e audio, il punto di vista però. I dati del grafico. Allora, in realtà il grafico riporta dei dati, quindi non ha particolarmente un punto di vista specifico. Siete voi che dovete utilizzare i dati del grafico a supporto, a sostegno della vostra argomentazione. E poi, alla fine, ci deve essere il punto di vista dell'audio. Vediamo anche come dovrà essere organizzato questo saggio argomentativo. In realtà questo l'avete già imparato fin dalle scuole elementari, quando vi hanno insegnato a scrivere un tema. Che cosa bisogna fare? Bisogna avere un'introduzione, quindi parlare, scrivere, di introdurre un po' l'argomento di cui parleremo. Poi dovrete avere un paragrafo sull'articolo, un paragrafo sul grafico e un paragrafo sull'audio. Attenzione, in realtà nel vostro tema, nel vostro saggio, voi non è che dovete necessariamente avere un paragrafo sull'articolo, uno sul grafico e uno sull'audio. Potete anche unire tutto quello che vi serve dell'articolo, del grafico e dell'audio in un testo solo. Però diciamo che volendo organizzare il saggio in maniera tale da non dimenticare nessuna delle fonti, ricordatevi che potete decidere di avere un paragrafo per ogni fonte, utilizzandole chiaramente per quello che volete dire voi e poi alla fine dovrete avere una conclusione. Vedete che accanto a paragrafo sull'articolo, sul grafico e sull'audio c'è un asterisco? Questo perché vi dovete ricordare di presentare il punto di vista delle fonti e dovete utilizzarlo per rispondere alla domanda della traccia. Ok? Quindi ricordiamoci, non dobbiamo fare un riassunto, l'articolo dice questo, il grafico dice questo, l'audio dice questo, ma dobbiamo utilizzarli per rispondere alla nostra domanda. Adesso vediamo prima di tutto come ci dobbiamo preparare per riuscire a prendere 5 al nostro esame AP per il saggio argomentativo. Quindi vediamo un po', queste sono proprio le scoring guidelines, quindi la rubrica legata alla valutazione del vostro saggio, effective treatment of topic within the context of the task, cioè se vi chiede di parlare di un argomento, parlate di quell'argomento in maniera efficace. Dovete dimostrare una profonda comprensione del punto di vista delle fonti, però dice anche con alcune inaccuratezze. Quindi se non capite proprio tutto, non preoccupatevi, potrete comunque prendere 5. L'importante è cercare di capire il più possibile. Integra il contenuto delle tre fonti a sostegno dell'argomento, cioè la vostra risposta non deve avere tre appunto riassunti delle fonti, ma dovrete integrarli, dovete dire io la penso così perché nell'articolo dice questo, nel grafico dice questo e nell'audio dice questo. Quindi da quello io capisco che. Ok e poi adesso andiamo a vederlo proprio da un punto di vista pratico. Attenzione, grande chiarezza quando sviluppate il vostro tema, la vostra opinione e soprattutto coerenza e dettagli. Chiaramente tutti questi dettagli da dove li prendete? dalle fonti. Organizzato, per quello vi ho fatto vedere, introduzione, paragrafi e poi conclusione. D'accordo? Perché è importante che la vostra, siccome è una presentazione, non è un biglietto che scriviamo a un amico, ma è una presentazione da fare alla classe o per il concorso di scrittura, comunque un contesto relativamente ufficiale, si tratta di una presentazione accademica, diciamo, no? Deve essere comprensibile. Ricordatevi che questa è una parte più importante. Quello che scrivete si deve capire. D'accordo? Dovete avere, come fate a renderlo comprensibile? Utilizzando un vocabolario vario e appropriato, utilizzando la stessa varietà e la stessa accuratezza nella grammatica, nella sintassi e anche qui però vedete che c'è scritto with few errors. Quindi non preoccupatevi di fare qualche errore, però preoccupiamoci di lavorare sull'accuratezza. E poi qua vi dice anche che quando scrivete deve essere chiaro che intanto sapete scrivere dei paragrafi con delle frasi semplici composte e anche con alcune frasi complesse. D'accordo? Quindi questo è quello che vi fa arrivare al cinque. Come si fa a creare tutto questo? Elaborando. D'accordo? Perché elaborando riuscite a mostrare il vostro vocabolario, la vostra grammatica, tutti i dettagli delle fonti e quindi riuscite chiaramente a prendere un cinque perché è per quello che stiamo lavorando. Allora vediamo un po' il saggio argomentativo di oggi batterà su questi temi, le sfide globali e in particolare fra le varie sfide globali il mondo del lavoro e la scuola e l'istruzione. Quindi qui trovate il file con le domande sui testi delle attività, in questo caso con la presentazione del saggio argomentativo. Quando entrate nel folder, nella cartella, trovate il file saggio argomentativo e trovate anche l'audio della terza fonte. Però non è necessario, a meno che non vogliate scrivere il saggio argomentativo dopo aver visto il video. Se invece lo volete scrivere prima per mettervi un po' alla prova, allora non vi serve scaricare l'audio, cioè lì vi serve scaricare l'audio. Se invece continuate a guardare il video ve la farò ascoltare direttamente io. Ok, allora intanto per cominciare cerchiamo di rinfrescarci un po' le idee sugli argomenti di cui parleremo oggi. Per esempio, scrivi brevemente tutto quello che sai su questi argomenti facendo esempi da quello che hai imparato in classe durante il liceo. Proviamo a rispondere a queste domande. Cosa sai del mondo del lavoro in Italia? Quali sono le differenze fra l'istruzione in Italia e nel tuo paese? Come è cambiato il mercato del lavoro negli ultimi anni? Quindi domande sull'istruzione e sul mondo del lavoro e sul mercato del lavoro. Allora cercate di prendere degli appunti. Adesso magari potete mettere in pausa il video per cinque minuti, non di più, perché questo ci serve proprio solo a rinfrescarci un po' le idee e dopo questi cinque minuti vi farò vedere un esempio che adesso vediamo insieme. Quindi questo è un esempio scritto dalla mia classe, da uno studente, una studentessa della mia classe, non ricordo chi fosse. Allora vediamo che cosa ha scritto. Nella mia esperienza ci sono molti posti in Italia, attenzione qua perché non è necessario correggere tutto, però insomma Italia deve essere con la maiuscola perché è un paese. Quindi vediamo un po'. Nella mia esperienza ci sono molti posti in Italia per i laureati soprattutto nel nord che è la regione più ricca d'Italia. Una causa di questo è che l'università italiana è molto economica perché in Italia, sempre maiuscolo, in Italia il diritto all'istruzione è scritto nella Costituzione e l'educazione dei cittadini è considerata fondamentale per la funzione della democrazia italiana. Questo è diverso negli Stati Uniti in cui l'università, con l'accento, ha un prezzo molto alto e l'educazione di tutti i cittadini non è considerata così importante. Una cosa che è cambiata nel mondo del lavoro italiano degli ultimi anni è la proliferazione di start-up soprattutto nell'industria tecnologica. Allora vedete, vi do un consiglio, questo era soltanto per rinfrescarci un po' le idee, però vedete qua queste correzioni in cui è cancellato tutto. Quando scrivete il saggio argomentativo, se vedete che avete scritto una parola come questa dritto, che invece dovrebbe essere dritto con due t, non cancellate completamente ma tracciate una riga sopra la parola in maniera tale che si veda quello che è scritto sotto, perché in questo modo aiutate gli AP reader a capire anche quelli che possono essere stati i vostri dubbi. Allora adesso facciamo pratica, ok? Quindi andiamo a scrivere un saggio argomentativo. Vediamo la traccia. In che modo la generazione Z può risolvere il problema della disoccupazione in Italia? Allora intanto qui abbiamo due argomenti un po' che si sovrappongono, no? Perché dobbiamo capire chi è la generazione Z, probabilmente lo sapete già perché è un concetto che è partito proprio dagli Stati Uniti e poi c'è anche il problema della disoccupazione in Italia. Quindi a questo punto noi quando cominciamo pensiamo subito che informazioni ho già io che mi possono servire per discutere questo tema e risolvere e rispondere alla domanda. Ok, allora adesso vediamo però che cosa dobbiamo fare con quello che seguirà. Come possiamo rendere efficace il saggio, cioè la risposta a questa domanda. Ecco qua, organizziamo la nostra ricerca perché voi dovete mostrare che sapete, avendo tre fonti, fare una ricerca sul contenuto di queste fonti. Quindi dovete organizzare la vostra ricerca. Avete la fonte numero 1, avete la fonte numero 2 e avete la fonte numero 3. Della fonte numero 1 e della fonte numero 3 sappiamo già che dobbiamo capire il punto di vista. Quindi se il nostro argomento è in che modo la generazione Z può risolvere il problema della disoccupazione, dobbiamo capire. Ma nella fonte numero 1 che cosa pensano? La fonte numero 1 è a favore o contro il fatto che magari la generazione Z ha gli strumenti per risolvere il problema della disoccupazione. E la fonte numero 3, che cosa pensa a riguardo? Qual è l'opinione dell'audio che ascolterò? Perché ricordate la fonte numero 1 è l'articolo, la fonte numero 3 invece è l'audio. La fonte numero 2, ricordiamoci che è neutrale. Allora non devo prendere appunti? Certo che devo prendere appunti, perché per la fonte numero 2 devo vedere se ci sono dei dati che possono essere importanti per poter esprimere la mia opinione su in che modo la generazione Z può risolvere il problema della disoccupazione. Quindi devo capire quali parti delle fonti ci aiutano a esprimere il nostro punto di vista. Andiamo avanti. Se avete scaricato il vostro audio, il vostro file saggio argomentativo potete cominciare a dividere le fonti nei tre argomenti, altrimenti se preferite continuare con il saggio guidato, continuate nel video. Allora adesso insieme andiamo a vedere la fonte numero 1, quindi l'articolo, e in particolare ci soffermiamo sul vocabolario. Quindi vediamo un po'. Il vocabolario che troveremo nell'articolo. Iperconnessi. Che cosa significa iperconnessi? Significa sempre collegati alla rete e per la rete si intende internet. Mammoni. Quella è un'altra parola che magari avrete già sentito nella classe di italiano. E che cosa significa? Significa molto attaccati alla mamma. Seminari. Che cosa sono i seminari? Sono dei corsi specialistici, dei workshop praticamente. Il telelavoro è il lavoro a distanza. Questo dovreste già averlo imparato ieri nella lezione con il professor James. Flessibilità è la capacità di adattamento. Gli intenzionati sono le persone che hanno intenzione di fare qualcosa o che vogliono fare qualcosa. Tutelare significa proteggere e l'asso nella manica è un'espressione che indica una caratteristica vincente. La generazione Z invece siete voi, cioè tutti i ragazzi che sono nati fra il 1995 e il 2010. Per cui voi siete la generazione Z. Se vi siete appena collegati al video qui potete scaricare il file saggio argomentativo e adesso vi invito a prendere appunti sul vocabolario magari mettendo in pausa il video. Lo potete fare adesso, lo potete fare dopo, quando preferite voi. Ricordatevi sempre che prendere appunti sul vocabolario aiuta ad impararlo, ad acquisirlo. Adesso andiamo invece alla fonte numero uno, all'articolo, che potete leggere voi silenziosamente ma io adesso vi aiuterò a capire. Intanto andiamo alla nostra introduzione. Questo testo tratta il tema del lavoro dei giovani in Italia. Si tratta di un testo originale scritto per questa prova. Ve l'ho scritto io. Poi alla fine vi darò delle fonti autentiche. Che futuro lavorativo aspetta la generazione Z? Il lavoro tra sogni e aspettative. Generazione Z, nativi digitali, iperconnessi e stressati, pigri e mammoni. Ai nati fra il 1995 e il 2010 è stato detto un po' di tutto. Ma come pensano di affrontare le responsabilità professionali che sono all'orizzonte? O almeno così speriamo. Una serie di seminari tenuti all'Università Cattolica di Milano ha presentato una generazione molto più all'avanguardia e attiva di quanto potessimo aspettarci. Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, oggi più che mai. E ragazzi e ragazze italiani fra i 15 e i 25 anni sembrano avere le idee molto chiare. Telelavoro, smart working, flessibilità per potersi dedicare alla propria professione e dedicare tempo alla vita personale, da condividere con amici e famiglia, anche se non sembra siano troppo intenzionati ad avere dei figli. Appassionati di temi ecologici e sociali, credono nell'impegno e nella solidarietà, facendo pensare che saranno in grado di creare nuovi modelli di impresa che non si preoccupino solo della grande produzione, ma anche di tutelare i diritti del pianeta e dei lavoratori. Alle aziende non resta che seguire un percorso ben definito per attrarre una forza lavoro che si può rivelare l'asso nella manica per il futuro economico del paese. Investire nel telelavoro e nello smart working garantendo una flessibilità che non solo soddisfi le richieste dei giovani, ma che sarà anche un utile strumento per massimizzare l'attività. Riducendo i costi di gestione di uffici e spazi, favorire la comunicazione e prestare attenzione alla responsabilità sociale per farsi promotrici dei valori cari alla generazione Z. Allora adesso se volete potete mettere in pausa, potete leggerlo un po' più per conto vostro. Io intanto vado avanti, ok? Vedete bene, cercate di trovare nell'articolo tutte le parti che vi possono essere utile per rispondere nella vostra presentazione scritta. E adesso passiamo alla fonte numero due. Il vocabolario di questa fonte numero due è molto semplice. Abbiamo disoccupato chi non ha un lavoro ma lo cerca, occupato chi svolge un'occupazione, quindi un lavoro, e inattivo chi non lavora e non cerca un lavoro. Quindi queste sono tre definizioni per la fonte numero due che è la fonte della tabella, del grafico. Ricordatevi di prendere appunti sul vocabolario, potete mettere in pausa, scaricare il file saggio argomentativo col QR code se ancora non lo avete fatto. Andiamo avanti e vediamo proprio questa tabella che, e vediamo cosa dice l'introduzione. Questo testo tratta il tema del lavoro in Italia. Si tratta di un testo originale scritto per questa prova, ok? Quegli autentici li troviamo alla fine. Tassi percentuali di italiani occupati, disoccupati e inattivi divisi per età, questo è importante perché noi parliamo di una fascia d'età ben definita, la generazione Z, su base dati Istat aprile 2019. Quindi guardiamo bene i dati, vedete che sono divisi per età, abbiamo 15-24 anni, che quindi sono i ragazzi della generazione Z, 25-34 anni, 34-49 anni, 50-64 anni. Vediamo che per quanto riguarda l'occupazione, i ragazzi dai 15 ai 24 anni sono quelli che hanno meno, sono meno occupati, sono anche invece i più, fra le varie categorie d'età, i più disoccupati e anche i più inattivi. Chiaramente questo perché, guardate bene, dai 15 ai 24 anni, i ragazzi dai 15-16 anni sono ancora nell'età dell'obbligo scolastico, ok? Quindi quello va considerato. E adesso passiamo alla fonte numero 3, che è l'audio. Prima di ascoltarlo leggiamo insieme il vocabolario, che ci può essere utile. Ricordatevi soprattutto per questo di prendere appunti perché vi aiuterà nella comprensione dell'audio. Il liceo classico è una scuola superiore, un liceo appunto, per studiare greco antico, latino, filosofia e altre materie prettamente umanistiche. Lettere antiche è una facoltà universitaria dove si studiano latino e greco antico. Puntare a vuol dire avere un obiettivo specifico. Una vitaccia, questa fine della parola accia ci fa capire che è un po' dispregiativo, quindi significa, indica una vita difficile. Anacronistico, che è una parola molto simile anche in inglese, vuol dire in contrasto con il tempo, con il periodo storico, quasi che appartiene ad un altro periodo storico. All'avanguardia, all'interno del nostro testo audio, si riferisce a posizioni di leadership, all'avanguardia. Qui trovate come sempre il vostro file con le domande, prendete appunti, mettete in pausa se ne avete bisogno e poi andiamo ad ascoltare. Prima di tutto però leggiamo l'introduzione. Questo testo audio tratta il problema della disoccupazione giovanile in Italia. Chi parla è il signor Giovanni Losito, padre di due figli. Si tratta di un testo originale scritto per questa prova. Sentirete l'audio due volte, quindi guardate bene, ascoltate e prendete appunti. Qui non è la prova a scelta multipla in cui dovete avere le domande. Qui è tutto nelle vostre orecchie, quindi ascoltate bene e prendete appunti. Il lavoro della generazione Z. Ah, io ero rimasto alla generazione X. E i tempi cambiano così rapidamente. Ma cosa vuole che le dica? Io ho due figli, uno che studia al liceo classico e vuole iscriversi in lettere antiche all'università e uno che invece è ancora alle medie e non sa bene cosa fare. È difficile orientarli verso una professione o un'altra. Prima di tutto io credo molto nel dare loro la possibilità di scegliere lavoro che gli può interessare di più. Passiamo tanto tempo a lavorare, ormai fino a 65-70 anni, finché non si va in pensione, insomma una vita intera. È decisamente meglio puntare a un'attività che a loro piaccia e che gli dia qualche soddisfazione, altrimenti diventa un avvitaccio. E poi c'è da considerare che in Italia siamo cresciuti noi dalle generazioni precedenti con poche opportunità professionali, ma ora sembra che la crisi sia anche più forte e non si capisce bene cosa potranno fare loro. Ma ci pensa, nell'era tecnologica dove tutto si muove tra computer, smartphone e social media, a mio figlio è venuta l'idea anacronistica di studiare lettere antiche, anziché, non so, ingegneria, informatica. Non mi resta che reporre le mie speranze nel piccolo, sperando che almeno lui sceglie un percorso professionale all'avanguardia. No, scherzo. Ma la preoccupazione per il loro futuro resta. Ci vorrebbero più iniziative di formazione professionale, più impegno da parte del governo. Vedo che gli altri paesi in Europa si muovono, aiutano i giovani a trovare lavoro o magari anche a crearselo da soli, inventandosi una professione. Da noi forse curiosiamo maggiormente gli studi, curiamo maggiormente gli studi e ci occupiamo meno di quello che viene alla fine, il lavoro insomma. Ok, allora adesso ve lo faccio riascoltare. Se avete preso alcuni pochi appunti adesso, mi raccomando, continuate a prendere appunti. Il lavoro della generazione Z. Ah, io ero rimasto alla generazione X. E i tempi cambiano così rapidamente. Ma cosa vuole che le dica? Io ho due figli, uno che studia al liceo classico e vuole iscriversi in lettere antiche alle università, e uno che invece è ancora alle medie e non sa bene cosa fare. È difficile orientarli verso una professione o un'altra. prima di tutto io credo molto nel dare loro la possibilità di scegliere lavoro che gli può interessare di più. Passiamo tanto tempo a lavorare, ormai fino a 65-70 anni, finché non si va in pensione, insomma una vita intera. È decisamente meglio puntare a un'attività che a loro piaccia e che gli dia qualche soddisfazione, altrimenti diventa una vitaccia. E poi c'è da considerare che in Italia siamo cresciuti noi dalle generazioni precedenti con poche opportunità professionali. Ma ora sembra che la crisi sia anche più forte e non si capisce bene cosa potranno fare loro. Ma ci pensa. Nell'era tecnologica, dove tutto si muove tra computer, smartphone e social media, a mio figlio è venuta l'idea anacronistica di studiare lettere antiche, anziché, non so, ingegneria, informatica. Non mi resta che riporre le mie speranze nel piccolo, sperando che almeno lui cerca un percorso professionale all'avanguardia. No, scherzo. Ma la preoccupazione per il loro futuro resta. Ci vorrebbero più iniziative di formazione professionale, più impegno da parte del governo. Vedo che gli altri paresi in Europa si muovono, aiutano i giovani a trovare lavoro o magari anche a crearselo da soli, inventandosi una professione. Da noi forse curiosiamo maggiormente gli studi, curiamo maggiormente gli studi e ci occupiamo meno di quello che viene alla fine, il lavoro insomma. Ok, allora adesso vi voglio dire un piccolo segreto. Qualsiasi cosa voi abbiate scritto sul vostro foglio degli appunti? Lo potete sicuramente, anche se avete, se siete riusciti solo a scrivere alcune parole, però questo testo audio adesso ce lo avete nella memoria, le parole che avete scritto, anche se sono poche, anche se siete riusciti a scrivere solo 4-5 parole, ricordatevi che qui si parla, si tratta il problema della disoccupazione giovanile in Italia e chi parla è il padre di due figli, d'accordo? Se avete preso appunti sul vocabolario voi questa fonte la potete utilizzare, non dovete avere chissà quanti appunti, la fonte audio è chiaramente la fonte più difficile da citare, ok? Quindi non preoccupatevi, usate quello che siete riusciti a capire. Quindi adesso se volete mettete in pausa il video e scrivete il saggio sulla base dell'articolo, della tabella e della fonte audio e noi ci vediamo dopo che avete scritto il saggio. Se invece preferite andare avanti, vedere degli esempi e dopo scrivere il saggio va bene ugualmente, ok? Decidete voi. Adesso invece io vi faccio vedere un esempio, in realtà ve ne farò vedere due di esempi. Allora vediamo un po'. Qua cerco di leggervelo io, d'accordo? Recentemente, questa è la risposta al saggio, ok? A come può fare, in che modo può la generazione Z risolvere il problema della disoccupazione. Recentemente la disoccupazione è cresciuta in Italia e si è diventata in una problema in cui preoccupa la maggior parte della popolazione italiana. Con questo chiediamo in che modo la generazione Z può risolvere il problema della disoccupazione in Italia. In realtà non ci dobbiamo preoccupare perché stanno creando nuovi posti di lavoro ancora adesso. La generazione Z sono persone che si sono nati fra l'anno 1995 al 2010 e sono considerati inattivi digitali ma anche pigri. Secondo questo è la fonte 1. Loro vogliono teleravoro e smart working però anche bilanciare il tempo professionale e personale. Allora attenzione ci sono qua dei piccoli errori che io adesso vi faccio vedere però come vedete gli errori sono abbastanza pochi. Vedete che questa è l'introduzione? Quindi l'introduzione c'è. C'è anche la fonte numero 1 con un breve paragrafo. Andiamo avanti e vediamo come si evolve il saggio. Sì, sembra difficile con il percento della disoccupazione però non è impossibile. in fonte 3 un padre di due figli spiega che la maggioranza delle persone lavorano per fra 65 e 60 anni. Quindi è migliore se generazione Z lavora in qualcosa che porta soddisfazione che è maggiormente tecnologia. La generazione X è diversa perché non avevano molte opportunità di professione che la generazione Z avrà perché stanno nella epoca di tecnologia che farà molti nuovi professioni mentre riduce i costi di gestione di uffici e spazi. In conclusione generazione Z farà nuovi posti di lavori principalmente tecnologia che poco diminuirà. Allora qui ho dovuto fare delle correzioni. Perché? Perché a me sembrava che mancasse una fonte. Ho visto la fonte numero 2 1, la fonte numero 3, ma non ho visto la fonte numero 2. Allora ho dovuto rileggerlo e mi sono resa conto che nella frase si sembra difficile con il percento della disoccupazione. Quello che voleva scrivere lo studente era sì sembra difficile con la fonte 2 che mostra l'alta percentuale di disoccupazione, però non è impossibile. Poi ho corretto anche non mettete mai in fonte, mettete nella fonte 3 ok e poi ci sono state altre correzioni. In realtà poi alla fine si vede che in questo saggio sono stati citati, citate tutte e tre le fonti e sono state utilizzate per dare una risposta. Attenzione però che l'accuratezza è necessaria e anche ricordatevi l'elaborazione perché per esempio c'è stata l'elaborazione per la fonte numero 3, c'è stata l'elaborazione per la fonte numero 1, non c'è stata tanta elaborazione per la fonte numero 2. Quindi adesso vi faccio vedere un altro esempio. La nuova generazione, sempre sullo stesso saggio, la nuova generazione, generazione Z è molto diversa dalle generazioni precedenti perché loro sono cresciute con la tecnologia e adesso quando loro stanno cominciando a lavorare loro vogliono opportunità diverse dal loro lavoro rispetto alle generazioni precedenti ma questo crea il problema della disoccupazione in Italia. La fonte 1 ha parlato di come la gente di generazioni precedenti credono che la generazione Z è pigra perché molto di loro stanno disoccupati ma anche spiega perché è questo. La generazione Z vogliono avere una vita privata e una vita lavorativa quindi loro preferiscono telelavoro o smart working. Quindi se più aziende inizia a avere questo tipo di opportunità di lavoro disponibili molte persone della generazione Z sarebbero incoraggiate a lavorare. E qui abbiamo come vedete la citazione e anche abbastanza elaborata della fonte 1 che è stata utilizzata per quello che sarà il punto di vista di questo studente o di questa studentessa. La fonte 2 mostra i tassi percentuali di italiani occupati, disoccupati e inattivi. I giorni giovani di età fra i 15 e i 24 sono il gruppo di più disoccupati, mentre le persone di età 30-49 sono, e qui bisognava dire, l'8,67% delle persone di età 34-49, fra i 34 e 49 anni, sono disoccupati. Questo può essere perché persone maggiore già hanno un lavoro stabile e per un giovane con poca esperienza è di più difficile di trovare. Ma aprire negozi online può essere un'opzione buona per la generazione Z e le banche o il governo possono aiutare con prestiti per cominciare i negozi. Anche la generazione Z si può sentire sfiduciata perché loro non hanno molte opportunità professionali, ma come ha detto il padre nella fonte 3 è importante capire il problema lavorativo dei giovani e supportarli nel tempo prima che trovano un lavoro. Per concludere le aziende e banche, il governo dovrebbero aiutare la generazione Z a trovare lavori all'avanguardia e anche i giovani hanno bisogno di supporto in questi tempi difficili. Quindi se noi torniamo indietro vediamo che c'è un'introduzione, c'è la fonte numero 1 con la sua elaborazione, la fonte numero 2 con la sua elaborazione e anche la fonte numero 3 con la sua elaborazione e una conclusione. Ora sicuramente ci sono tanti errori, d'accordo? Però questo è chiaramente un esempio di un lavoro sull'organizzazione del saggio argomentativo. Adesso abbiamo ancora un po' di tempo quindi correggeremo anche i nostri errori prima degli esami, d'accordo? Vediamo un po' cosa abbiamo imparato. Allora ricordiamoci prima di tutto che nel saggio argomentativo ci saranno tre fonti che le informazioni richieste nel saggio argomentativo saranno il punto di vista dell'articolo, i dati del grafico che non ha un'opinione e il punto di vista dell'audio, che queste informazioni dovranno essere offerte nella nostra presentazione scritta con una certa organizzazione, un'introduzione, un paragrafo sull'articolo, uno sul grafico e uno sull'audio, oppure un'altra organizzazione dei paragrafi come preferite voi ma citando le tre fonti e una conclusione. Ricordate che non dobbiamo fare solo un riassunto delle fonti ma dobbiamo presentare il punto di vista per rispondere alla domanda della traccia. Qui trovate dei testi autentici che potete leggere con il QR code oppure potete utilizzare qua i bit.ly lavoro epi daily live, studiare epi daily live e giovani epi daily live. Questi sono dei materiali autentici non scritti da me e quindi potete vedere come però viene affrontato il problema del lavoro della generazione Z, il problema dello studio in Italia e in generale l'argomento dei giovani e il lavoro. Nell'ultima dove vedete i giovani e il lavoro quella è proprio una fonte, un istat che vi presenta dei dati relativi ai giovani e al lavoro in Italia. Vi ricordo che il saggio argomentativo nei video di epi daily che trovate su epi classroom è nelle unità 2, 4 e 6 ma soprattutto vi ricordo di aprire questo modulo google per il feedback, di mandarci del feedback, di fare delle domande. Utilizzatelo come volete ma ricordatevi che questo è l'unico modo che avete per interagire con me e con James, infatti ve l'ho messo anche qua. Ieri avete cominciato con James a parlare della nuova prova dell'esame AP, oggi abbiamo lavorato sul saggio argomentativo, domani invece tornerà James per prepararvi alla prova della conversazione. Mi raccomando il modulo google per il feedback. Io vi ringrazio di essere stati qui e di aver studiato con noi come preparare una presentazione scritta per l'esame AP. Saluto ancora la Brunswick School, la Ridge High School, la Hendrick Hudson High School, la Parsipani Hills High School e la Parsipani High School e gli insegnanti, le insegnanti, Lucia Sardi, Fiorella Bologno, Antonietta Gliubizzi, Jacqueline Bevacqua, Angela Minichiello Garcia e i loro studenti e le loro studentesse e noi ci rivedremo giovedì ma domani mi raccomando andate a vedere il video di James. Arrivederci! Grazie a tutti!